in occhi è tornato ovviamente lui andrebbe a dire non me ne sono mai andato ma a fatti concreti si sentiva la mancanza quindi credo che sia giusto dirlo in occhi è tornato è tornato perché sta incazzato nero ma sta domando un po la sua rabbia la sta canalizzando e questo disco è uno schiaffone uno schiaffone alle nuove generazioni ma non col fare sbruffone da boomer per come si dice in questi in quest'epoca no è con fare di del fratello maggiore che si siede e ti dimostra un attimo la situazione ti dimostra come si fa questa roba te lo dimostra con i canoni dell'old school che qualcuno potrebbe chiamare limiti e io chiamo scelta e dopo l'intro che è un tassello fondamentale per i dischi per come si facevano una volta diciamo e che oggi invece c'è non c'è questione di scelta insomma anche ci sta dopo l'intro prodotto da salmo quindi un vecchio un vecchio amico un vecchio nemico diciamo c'è il featuring diretto con tedua figlio della nuova generazione tedua ne parlavo proprio recentemente dicevo che anche se magari non lo apprezzo più di tanto spesso e se magari ho sempre tanto da ridire su di lui però come persona soprattutto in relazione ha rispetto verso le verso chi l'ha preceduto è impeccabile e in occhi lo ha capito questo c'è stato un vero che riconosce il vero e quindi non a caso ha chiamato lui che è proprio un amato dalle nuove generazioni è uno di quelli che sperimenta però comunque resta fedele al rap è uno insomma tedua è molto particolare sicuramente non è uno che non non desta polemica comunque ne parli nel bene e nel male e in occhi in questo mi fa pensare un po a lui e in questo brano c'è un mix di citazioni l'uno con l'altro c'è in occhi parte citando tedua e tedua nel ritornello cita in occhi ma lo cita in continuazione è un continuo è un è una fusione un miscelarsi di queste due entità in un unico pezzo e la canzone tra l'altro è rappata proprio in maniera forte veloce rapida poi in occhi parte con i suoi viaggi che mi fanno schiattare da ride quando parte con i suoi viaggi lirici tecnici perché mi ricorda tutto un tempo ecco quindi di conseguenza lo vedo per quello che che rappresenta per me che è un po il modo di scrivere che abbiamo avuto tutti perché copiavamo appunto questo modo di scrivere vabbè comunque a parte questo mi è piaciuto tanto questo disco l'ho ascoltato tutto ad un fiato e poi ho riascoltato il brano con tedua che devo dire che la canzone che mi è piaciuta di più non perché le altre non sono valide c'è quella che dj shock al beat che è una mazzata proprio questo è l'old school perché non confondiamo il rap l'hip hop l'underground con il genere old school che è proprio quella sonorità lì quella che ti fa dj shock il quella quella che si porta presso il vinile sgranato per intenderci che ai tempi voleva dire qualità voleva dire a quando tu sentivi la canzone che ti partiva col vinile sgranato era come la polverina no c'è il meme con quello lì che te la mette no e la polverina magica e quelle e quella canzone veramente alzo le mani sono tornato nei 90 che ero appena nato con la mente diciamo invece questa canzone è bella proprio perché è un è un via libera ed è secondo me importante per questo disco perché appunto in questo disco fa tante citazioni contro il rap moderno contro tante cose che secondo in occhi non sono andate bene non hanno funzionato nel percorso di sviluppo di questa cultura però appunto questa traccia te la mette su un piano differente ovvero appunto è proprio come capito diceva lord bin i vecchi attorno al fuoco i racconti dei vecchi attorno al fuoco in occhi rivendica in questo disco il fatto che la gente i ragazzi oggi fanno come cazzo gli pare non hanno avuto un'educazione e quindi consapevole che non basta prendere gli acceffoni perché altrimenti l'odio chiama l'odio in occhi con questa traccia rende appetibile a tutti come a dire io sono uno di voi come tedua che è qui con me al mio fianco mi siedo attorno al fuoco attorno a voi e vi racconto la storia dell'hip hop lo faccio in musica e inizio a rappare più che racconto inizio a rappare e vi dimostro quello che so fare quello che è per me questa cultura che non solo è per me che è quello che è stato e che cortesemente facciamo in modo che sarà a modo vostro ma facciamo in modo che sarà io questo ci vedo in questo disco e in questa traccia che è l'apertura cioè questo è come il canto primo dell'inferno non il limbo ma è proprio cioè in occhi con questa canzone ti dice lasciate ogni speranza a voi che entrate si siede e parte come caronte insieme a tedua e in occhi diciamo che in questo viaggio è sia dante che virgilio ma soprattutto virgilio e ti porta via a farti vedere quello che è stato l'hip hop e quindi questo disco ha varie sonorità ma comunque resta fedele al suo mood però puoi trovare tutto puoi trovare noemi al ritornello puoi trovare il pezzo old school puoi trovare la strumentale di salmo puoi trovare di tutto anche un featuring con tedua dove i due si scambiano le rime sono molto contento ad aver ascoltato questo disco non credo che sia uno di quei dischi che lo perdi io credo che in occhi non faceva un progetto del genere dai tempi dell'antidoto a me in occhi manca perché un disco così lo aspetto dal 2013 quindi bene così veramente molto bene così poi è chiaro che ascoltandolo ascoltandolo arrivano tante nuove nozioni lo insomma è l'una in questo momento quindi ho fatto un ascolto leggero se così vogliamo però credo di aver capito il viaggio tutto qua e questa canzone secondo me è proprio la bandiera rappresenta bene questo disco e ebbene sì sono molto fiero di tedua perché ha spaccato ha spaccato proprio quindi parlo bene di tedua grande tedua grazie a tutti